Ciao bellissimi, sono Grax, bentornati su Grax CS. Oggi voglio arrivare a 500 coppe di record. Il mio record di sempre è 421, sono 3 o 4 partite da fare. Mettiamo in sblocco quel baule e apro questo qua. Vediamo che cosa c'è nello shop. Arcerini per 35, non male per niente. Il codice Grax lo vedete qua sotto. Se volete live e altri video lasciate un like per la serie, è fondamentale. Iscrivetevi e campanella così rimanete sintonizzati, è fondamentale. Gli eventi non li posso fare, il clan al momento non ce l'ho. Questo è il deck. Secondo me possiamo andare a fare anche un'ulteriore carta di livello 5, così arriviamo al livello della torre 4 e sicuramente farà la differenza. Eccolo qua, nuovo livello per noi. Livello 4, preciso, abbiamo un bel baulozzo, lo andiamo a sbloccare, vediamo che cosa contiene. Dammi qualcosa di buono e dai, sono sicuro. Molti mi hanno consigliato di tenere le gemme per poi fare un torneo e utilizzare 500 gemme sulle 14 vittorie e prendere tutte quante le ricompense. Lì veramente valorizzi un botto buona la Valkyria, valorizzi tanto le 500 gemme. Frecce, una marea, ci piace anche perché le frecce le avevamo un pochino basse ed è una carta che sicuramente è molto buona prima della zap e del log. Le miglioriamo se posso anche a livello 5, il deck sta cominciando a prendere forma. La Fireball è una carta che sicuramente terremo, let's go a livello 5. Abbiamo la Valkyria che è a livello 3, ce la teniamo, abbiamo il mini pack al 5, let's go. Primi match con questo deck, non è velocissimo ma secondo me possiamo scalare alla grande. Torre di livello 3 perché l'esperienza è di livello 4, non la torre, giusto. Anche questa è una cosa da prendere in considerazione e Grax non si ricordava perché prima era bilanciato. Invece adesso ogni livello di esperienza corrisponde ad un livello di torre, una roba un po' matta. Frecce velocissime e si pulisce, secondo me le partite diventano molto più interessanti. Bombarolo dietro al gigante, mi viene da dire dietro al domatore ma il domatore qui non l'abbiamo ancora sbloccato. Con gli sgherretti pulisco il goblin e va molto bene. Questo è un player che gioca. Quella fireball non era per niente male, la torre sta a 1100. Per quanto riguarda il deck, credo che andrò con il gigante. Perché la carta che sblocchiamo all'inizio è che ci dà la possibilità di averla ad un livello molto buono. Più il gigante abbiamo alto, più riusciamo a scalare. Il domatore invece bisogna aspettare per sbloccarlo e magari poi non ci va a dare le carte rare che ci servono. Quindi meglio andare sul sicuro. Occhio a mini pecca, io c'ho i goblinini. Dovremmo andare giù senza problemi. Tolto lui, ci metto il mio mini pecca. Posso ripartire. Gli sfondiamo la torre e non vedo l'ora di fare live perché poi in live cominceremo a scalare sul serio. E a trovare le prime partite difficoltose con livelli magari altissimi. Player che hanno carta a livello 8, tu con le carte al 5. Che gli racconti, la skill arriva sicuramente fino a un certo punto. Posso tirare un bombarolo e una fireball magari su suoi sgherri. Ok, lui ha messo un grande cavaliere. Peccato che non gli butto giù la torre. La fireball fa 118. 118 sotto al porticato di Teramo. Però non voglio perdermi le tre corone. 40 secondi. Dagli mini pecca. Il mini pecca al 5 si fa sentire. Gigante davanti. Con i goblinini. Tira la fireball. Ha sbagliato la fireball. Con la mia fireball. Dovrei in teoria portare a casa molto semplicemente la partita. Buona la prima però. Non so se avete seguito gli altri due video. La qualità dei player non è per niente male. Cioè io che sono 1G player del 2016. Nel 2016 a queste coppe. Poi non so se magari ci stanno bot fatti in un certo modo che sanno giocare a Clash Royale. Potrebbe anche essere. Però nel 2016 a coppe basse. Cioè la gente non sapeva neanche schierare le truppe. E invece adesso. Vi devo dire. Prendo la Valkyria. Secondo me ci sta. Forse era meglio la Lapide. Però non è un problema. Next partita. Il mini pecca è molto buono. La Lapide non è male perché poteva alleggerire il deck togliendo la capanna. Però al momento la capanna è letteralmente OP. Con i goblinini che te lanciano tante lanci. Gli avversari non c'hanno la zap. Cioè hanno un valore clamoroso. Se ci tiri le frecce un pochino ci perdi. Uh grande Naruto. Buona quella Valk. A livello 5. Mini pecca al 6. Ve l'ho detto. Che la situazione comincia. Un attimo a puzzare. Quei goblinini sono buoni. Potrei ripartire con il mio Giant. Per forza di cose davanti al bombarolo. Quello è un'ottima fireball. Ragazzi le partite sono serie. Sto facendo tutto il belloccio adesso. Ma preparatevi che tra non tantissime coppe il gioco comincerà a tirarci un po' di conto. I player sono già a livello 4. Non dipende più dalla skill ma da quanto tempo ci giochi e da quante carte è sbloccato per fare i livellamenti e così via. La Valkyrie è buona. Io però tiro subito il mini pecca così valorizzo la capanna. Fin dove può arrivare la skin di un player. La skin. La skill di un player. Fino a che punto? Puliamo tutto quanto. Bene. Pulisci. Bravo Grax. Goblinini. Secondo me fanno il loro lavoro. Il mini pecca l'abbiamo tolto. Ci metto gli sgherri. Ci abbiamo i goblin che vanno sulla parte di sinistra. E noi, non ho capito quelle frecce, punteremo alla torre di destra. Let's go con moschettiere pure dietro. Secondo me può fare ottimi danni. Ad esempio qui possiamo togliere velocemente i goblinini. Ci piace. Lui va avanti. Se mette il cavaliere. Quella è un'ottima fireball livellata. Quella è un'ottima fireball che mi toglie il moschettiere. Devo subito fare gli upgrade. Devo prendere le carte. Ecco perché serve lo shopping. Se shoppite prendi tutto. Immaginatevi un player che non sa giocare e dice cavolo. Ma quella fireball è troppo forte. Mi tocca metterci il cash. Esattamente funziona così lo shop di Clash Royale. Gigante. Sgherretti di livello 3. Andovato però. Andiamo. Tira le frecce che sono molto buone. Lui non molla assolutamente niente. Ma vi immaginate se effettivamente è la supercell che ti mette contro player. player bot livellati che praticamente non ti consentono di scalare. Fatti apposta per spingerti a livellare le carte. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Mini pecca sulla sinistra. Certo. Utilizzano pure le mot. Io metto il pollastrone. Con il gigante facciamo il nostro. C'è di dire pure la fireball. Veloce a fare i danni. Dai gigante. Non penso che riusciremo a fare tre corone. Lui se ne è presa una. Ma vabbè. Voglio fare un altro match. Abbiamo fatto i potenziamenti. Dobbiamo arrivare a 500 coppes. Uh. Bono quel baule magico. Però non credo di avere le chiavi per metterlo in sblocco. Magari prossimo video. Il primo baule magico. Ragazzi. Filz incredibili. Non so se vi ricordate. Ma Grax trovò il mago di ghiaccio in un baule magico. E questo qua è il primissimo. Di arena 2. Forse fosse stato arena 3 sarebbe stato meglio. Next partita. Dobbiamo scavallare. Il pozzo delle ossa. Dobbiamo andare avanti. E noi non abbiamo il gigante ma gli sgherretti. E a livello 3 contro player di livello 4. Non è bellissimo. Però non mette niente. Quindi gigante. Tutti quanti hanno il cavaliere. Ma queste coppe col cavaliere ci fai molto poco. Il gigante fa il suo. Togli subito Mike Tyson col mini pecca. Molto bene. Cavaliere spaccato. Torre presa. Bene. Se questo è un trecorone veloce. Vi regalo pure un altro match. C'è tiro. Instant. Le frecce. Il mini pecca. Deve fare il suo. Togli. E invece Rega pensavo un pochino più easy. E' vero che avrò poi il moschettiere sotto torre. Mazzardo colpisce la torre centrale. Ma com'è possibile? Ho fatto qualche danno. E invece c'è da battagliare. Io non voglio perdere. Lui c'è un gigante un po' sottolivellato. E avere il gigante livellato. Veramente fa la differenza. Quelle frecce. Ti devo dire Marcos. Un pochino strane. Goblinini che colpiscono. Puliamo tutto quanto con estrema calma. Ci abbiamo pure un po' di livellamento. E' peccato che il moschettiere al 5. Mi può sciotta gli sgheri. Gli ho regalato praticamente 3 delisir. I goblin massacrano il giant. E va bene. Rega. Io faccio un mega push sulla parte di destra. Se lo ricorda per tutta la vita. Gigante vicino al ponte. Ci metto il mini pecca. Il gigante supererà il ponticello delle ossa. Ci metto il bombarolo. Ho anche la fireball. Ci metto il moschettiere. Il mini pecca fa il suo. Ci metto gli sgherri. Abbiamo un super push. Lui non può in nessun modo fermarci. Mini pecca sotto torre. Bello vedere delle hit umane del mini pecca. Cosa che invece a coppe alte. Mamma mia ti arriva una hit di mini pecca sotto torre. Clamorosa. Solo per voi faccio un altro match. Anche perché sblocchiamo la nuova arena. E che fai non la provi? Più 32 monete per noi. Siamo sulle 2007. Vi devo dire che le 2007 sono molto buone. Scavallo. Non ho scavallato. Bisogna fare più coppe. L'arena dei barbari a 600. Probabilmente la sbloccheremo la prossima volta. Next partita. E nel momento in cui arriveremo all'arena dei barbari. Avremo nuove carte. E ci piace la situazione. Bombarolo. Posizionato. Potrei anche alleggerire togliendo il bombarolo. Però poi magari me ne pento. Cavanna. Molto precisa. Non so se lui ha qualche truppetta. Ma nel dubbio. Provo un push molto matto. De mini pecca. Dall'altra parte. Mi basterà tirare le frecce. Se faccio in tempo. Nel senso. Vabbè la torre l'abbiamo fatta. E ok. Col bombarolo. La sinistra l'abbiamo gestita. Perché abbiamo tre goblinini. E va bene. Lui ha altri goblinini. A livello 4. Facile. Grossa pulizia. E ci mette la capanna. Allora. Mi sembrava una situazione. Molto più complessa. Per come si era messa all'inizio. Perché forse ho beccato un player discreto. Gli ultimi due player. Un po' da rivedere. Ma va bene. Questa è solamente la fase iniziale. Per questo sto facendo diversi video. È lo start. Poi dopo. Il vero scavallo. I veri problemi arriveranno. Quando il Grax starà intorno alle 1000. 1200 coppe. Un pochino più complicata la faccenda. La Fireball ce l'ho al 5. Con cui potrei andare a prendere. Sia i goblinini. Che il moschettiere. Le frecce le potrò tirare sicuramente molto meglio. Però il gigante. Ha fatto il suo. Non ho l'elisir. Pulisci tutti quanti gli sgherretti. Anche se prendiamo danni non è un problema. Il consiglio che vi do a voi nuovi player di Clash Royale. Mettete sempre il gigante dal back. Poi nel momento in cui il gigante parte. Caricate tutto dietro a manetta. Ha tirato un Mike Tyson. La prigione non va messa così. Se tu metti la prigione in quel modo lì. Ci fai molto poco. Va messa in difesa. E poi la sfrutti. In ripartenza. Sgherretti ottimi. Per gestire il tutto. Potrei pure lasciargli un po' di spago. Tanto lì riusciamo a spegnere tutto con la torre. Che è comunque di livello 3. La voglio complicare. Ragazzi la voglio complicare. Aspetta il mini pecca sotto torre. E poi me la puscio dall'altra parte. Lui prova il tutto per tutto sulla centrale. Non ci farà sicuramente niente. Mini pecca sotto la torre. Frecce tirate. Pulisco tutto. Gigante gigante. Gigante in avanti. Altro gigante. Sempre in avanti. Il mini pecca sulla torre. Margrax. Se la porta a casa. 4 win. Grossa scavallata. Grosso push. Sono molto contento. Non ho passato a perire. Non ho nulla da fare. Perché sono ancora a livello abbastanza basso. Ma nei livelli. Si può vedere quando si sblocca il livello 4 di torre. La torre al 3 si sblocca a livello 3. A livello 4. A livello 5. Bisogna arrivare a livello 5 di esperienza. E non ci manca tantissimo. Perché se potenzio le carte che ho basse. Tipo questa a livello 3. Gli arcerini a livello 3. 20 monete. È come se non si sentissero. Però è vero che prendo pure pochissimi punti esperienza. Se vado a potenziare il goblin pugile. Con 50 monedozze. Dovrei riuscire a scavallare. Di. Ma dato 6. Ma tu guarda che sfiga. Comunque ho 3000 monete. E allora a sto punto. Ripeto. I livelli bassi li dobbiamo fare per forza. Perché se non prendo esperienza. Poi non riesco neanche a superare la lega. Livello 5 per il Grax. Abbiamo pure un nuovo baune. E ho anche sbloccato gli artefatti. Questa è tutta roba ottima. Per andare poi. A potenziare le carte giuste. Secondo me andiamo sulle frecce. Con i jolly rari possiamo andare a potenziare o il gigante. Averla al 6. Secondo me fa la differenza con la Fireball. Andiamo sul gigante. Poi lo potenzieremo nel prossimo video. Prenderemo altra esperienza. I jolly saranno importantissimi. Baule di livello 5. Che ci va a dare oro? Ottimo. Gemme. Ottimo. Jolly rari. Scheletrini. Lapite. Sgherri. E dovrei avere la torre a livello 4. Gli altri due jolly rari li andiamo a dare al moschettiere che è un po' basso. E riesco a farlo pure a livello 5. Ti è. Beccate sto deck. Posso fare pure gli sgherri a livello 4. Che fede ne previ. Certo che lo fai. Lo posso fare pure a livello 5. Preparatevi. Prossimo video. Grax giocherà con un deck quasi full livello 5. Comincia a essere veramente interessante. Like, iscrizione e campanella. E codice Grax ovunque. Baci enormi. Ciao belli. Ciao ciao.